Cesc Fabregas nasce a 40 chilometri da Barcellona, cresci come tifoso del Barcellona, giochi nella cantera e com'è possibile che a 16 anni sali sull'aereo e vai a Londra? E' stata una decisione molto difficile. Nella vita a volte succedono delle cose inaspettate. La mia gioventù è stata legata inevitabilmente alla Barça per molto tempo, però ho avuto un'opportunità unica in un club che credeva in me. Sono nuove opportunità e nuove esperienze che ti dà la vita. Io e la mia famiglia pensavamo che sarebbe stata la scelta giusta per me. Ero molto giovane, quella era l'occasione giusta per crescere come persona, ma anche come calciatore, con un allenatore come Arsene Wenger. A Londra hai vissuto con Senderos, sappiamo che hai avuto un rapporto speciale con lui. Ci puoi raccontare magari qualche aneddoto? Mi ricordo ad esempio che c'è stato un periodo in cui lui era infortunato ad una spalla e non era arruolabile. Aveva 16 anni e a volte succede che a quell'età, se vedi un ragazzo più giovane di te che può giocare e tu non puoi farlo, può esserci un po' di invidia o si possono provare sensazioni brutte e negative. Ma la verità è che Senderos mi ha sempre trattato benissimo. Sentivo che era davvero felice per me, è una persona con un grande cuore. Lo stimo davvero molto, mi ha cresciuto come un fratello maggiore. Come un hermano maggiore per come mi cuido. Adesso voglio vedere se hai buona memoria. Se ti dico pizza, Manchester United e Sir Alex Ferguson, cosa ti viene in mente? E' un episodio che mi ha seguito per tutta la vita. Era una partita che giocavamo all'Old Trafford contro il Manchester United nell'epoca degli invincibili. Era da ben 49 partite che non perdevamo e quella partita, la cinquantesima, l'abbiamo persa. Ero davvero arrabbiato e lo era ovviamente anche tutto il resto della squadra. Sono rientrato nello spogliatoio e come succedeva ogni volta, c'erano delle pizze da mangiare. Sono arrivato lì per primo e mentre stavo mangiando ho sentito un gran casino provenire da quella zona. C'erano delle discussioni molto accese tra tutti i giocatori. Era un tunnel davvero molto stretto. Sono uscito a vedere cosa stesse succedendo, ma ero troppo piccolo di statura, non potevo mettermi in mezzo. Quindi la prima cosa che mi è venuta in mente è stata quella di tirare quello che avevo in mano. Ovvero la mia pizza. E' andata a finire che ho preso Ferguson in piena faccia. Non era naturalmente indirizzata a lui, ma è andata così. E parlando di allenatori, non si può non citare Arsène Wengerra. Cosa ha rappresentato per te, visto che di fatto ha avvallato la gestione di Vieira per dare spazio a te? E' un allenatore che aveva tutto quello che desiderava. Io ero fuori da quel cerchio e lui mi ha permesso di entrare in quel gruppo di veri campioni. Non era facile per un giovane fare parte di quell'Arsenal, ma lui mi ha dato l'opportunità di farlo e ha sempre avuto tanta fiducia in me. Gli sarò grato per sempre. Poi nel 2011 si può dire che sei forse all'apice della tua carriera e decidi di tornare al Barcellona. Perché tornare nella squadra in cui ci sono Xavi, Iniesta e Busquets? Che di fatto è difficile rubare il posto a uno di questi totem del Barcellona. Io non sono arrivato lì per rubare il posto a qualcuno. Avevo parlato con Pep Guardiola e aveva detto che avremmo giocato tutti e così è stato. Ho deciso di tornare anche perché ci tenevo a giocare con i miei amici di quando avevo dieci anni. E ovviamente con gli altri con cui sono cresciuto nella nazionale spagnola. Cosa pensi del Barcellona attuale? Dopo tanti anni difficili sta cercando di tornare al top, ma non è così facile a quanto pare. È un nuovo progetto. È chiaro che Xavi ha molto lavoro da fare, lo sa anche lui. Penso abbia la forza e le idee per fare bene e se gli daranno il tempo necessario, cosa difficile in una società come il Barcellona, potrà fare davvero qualcosa di buono. Molti dicono Fabregas, la sua carriera al top è durata meno di quello che ci si poteva attendere. Per esempio Benzema alla tua età vince un pallone d'oro o va al mondiale. Non so dove stava Benzema con 16 anni. Non so dove fosse Benzema a 16 anni, ma io ero già negli Invincibili. Ora ne ho 35 e sono 19 anni e 20 stagioni che gioco a un livello molto alto. Ovviamente adesso è sceso un po', ma credo che non si debba guardare solamente a quello che succede ora, ma a tutta la mia carriera. Non bisogna guardare lo che sta passando ora, bisogna guardare tutto. Adesso sei a Como, sei anche parte della società perché hai delle azioni, come ti trovi e quali sono i tuoi piani per il futuro? Pensi di rimanere qua a lungo? Io credo che qui, giocando, facendo parte della società, facendo il patentino d'allenatore, e il Como mi sta aiutando molto in questo senso, e collaborando tutti i giorni con il Club per la sua immagine, penso che sia una cosa molto bella. È chiaro che servirà un po' di tempo. Come si dice in inglese, è un long-term project. Ti faccio tornare al 2010, ma non per niente al momento in cui pensi tu. Tu hai sempre avuto una predisposizione per gli assist, per fare i passaggi ai compagni. Nel supplementare ti trovavi davanti a Stekelenburg, e alla tua destra hai Viglia. Perché in quel momento hai calciato e non hai fatto la cosa più naturale per te? È una buona domanda, l'ho visto molte volte. Beh, è una bella domanda. Quell'azione l'ho rivista più volte. Avevo la netta sensazione che Viglia fosse in fuorigioco. Questa era la mia sensazione in quel momento, ma non c'era il Le Bar, quindi se ne può anche discutere. Però se tirassimo una linea perfetta, credo che risulterebbe in fuorigioco. Alla fine, nella vita, le cose succedono perché devono succedere. Si vede che quel giorno non dovevo fare gol, ma un assist nella partita più importante delle nostre vite. E così è stato. Andres era libero e sapevo bene cosa fare. Come ho detto prima per Viglia, che pensavo fosse in fuorigioco, lì ero certo che Andres non lo fosse. Ho visto il difensore salire e così è stato un assist facile per me. Un passaggio che ha portato al gol più importante delle nostre vite.